Buongiorno a tutti, sono Giorgio Fiore, responsabile marketing di ViewsFenix e benvenuti a una nuova puntata della nostra rubrica Whatsapp. Con noi oggi abbiamo Margherita Gussetti, Key Account Manager di ViewsFenix. Buongiorno Margherita e benvenuta. Buongiorno Giorgio. Margherita, oggi parliamo di IT Service Management e della partnership con un importante player mondiale, ovvero Atlassian. Innanzitutto quindi ti chiedo, perché Atlassian? In ViewsFenix ci occupiamo ormai da 20 anni di IT System Service Management e abbiamo sempre cercato di essere all'avanguardia anche nella selezione delle migliori soluzioni sul mercato. Ci siamo avvicinati al mondo Atlassian inizialmente per esigenze interne legate al nostro team di sviluppo orientata da metodologia agile e ne abbiamo toccato con mano le potenzialità. Con la sua vasta gamma di prodotti Atlassian permette di migliorare il lavoro di team di qualsiasi tipologia e dimensione, una condivisione strutturata delle informazioni e l'ottimizzazione dei processi aziendali. Ok, bene, ma è stato necessario accreditarsi con Atlassian? E se sì, qual è stato il percorso? Assolutamente sì, c'è stato un importante percorso di accreditamento e oggi siamo Gold Partner di Atlassian. Grazie alle loro certificazioni da Atlassian, sia certificazioni ITIL, Agile e ISO 27001 e al grande bagaglio di esperienza in ambito service management, oggi i nostri consulenti possono affiancare le aziende in tutte le fasi del progetto, dall'assessment alla configurazione all'integrazione delle soluzioni Atlassian. Questo ci consente di fornire al cliente un sistema in linea con le sue specifiche esigenze. Ok, ultima domanda. Ora vorrei capire meglio quali sono i vantaggi per i nostri clienti. Quindi ti chiedo, qual è il valore aggiunto riconosciuto dal nostro mercato per questa partnership con Atlassian? Ad oggi abbiamo portato avanti i progetti in aziende sia di piccola che di grande dimensione. Entrambe le tipologie di azienda hanno apprezzato le grandi possibilità di integrazione tra i prodotti del protafoglio Atlassian, ma anche tra questi e le piattaforme di terze parti. E poi i prodotti Atlassian sono molto user-friendly e personalizzabili. E questo è davvero molto apprezzato. Bene, grazie allora Margherita. Se siete interessati ai temi trattati vi invito a continuare a seguire la nostra rubrica Whatsapp su LinkedIn e Instagram e per maggiori informazioni sui nostri servizi a contattarci cliccando sul polsante Contattaci che trovate nella home page del nostro sito internet. Bene, che dire? Alla prossima puntata. Ciao! Ciao!